Sfilare qui per soddisfare chi? Ancora non è stato messo un punto fermo sulla terza edizione della Giostra del Saracino 2016 e già sono comparsi alcuni striscioni contro la manifestazione nei luoghi che maggiormente rappresentano l'iniziativa Piazza Grande ed in Piazza della Libertà. Tra gli striscioni posizionati nei luoghi simbolo della Giostra del Saracino, in Piazza Grande, tra la Pieve e il Palazzo della Fraternita dei Laici dove si può leggere Sfilare qui per soddisfare chi? Davanti al Palazzo Comunale invece campeggia la scritta una voce fuori dal coro della città. No alla terza giostra senza se e senza ma. Ed infine davanti all'associazione Signorezzi c'è lo striscione. Non si mette la storia in mostra. No alla terza giostra. Negli striscioni inoltre campeggia il simbolo rosso-verde di Porta Crucifera, quartiere che si è pronunciato esplicitamente contro la terza edizione della manifestazione. Anche lo stesso rettore del quartiere aveva espresso la sua contrarietà all'idea della giostra straordinaria con una lancia d'oro dedicata a 200 anni della gendarmeria vaticana, definendosi personalmente sfavorevole ed auspicando invece ad un maggiore impegno per i quartieri.